Nessaggio della Beata Vergine Maria dato al Superiore Generale dell'Ordine Romano della Madre Redentrice. 10 marzo 2018. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Figli miei, shalom. Io, la Regina della Pace, sono discesa dal cielo e sono venuta a percorrere la terra per invitarvi ad agire per la riconciliazione tra i paesi, tutte le nazioni. Shalom. Vi mostro questo ramo di ulivo, simbolo di pace. Ricevetelo e passatelo di mano in mano, di paese in paese, di popolo in popolo. Fate a turno in modo che ciascuno dei miei figli possa toccare questo ramo di ulivo. Pregate il mio cuore immacolato. Qualunque cosa offriate per disarmare i cuori consentirà di stabilire una pace duratura. Lo stato di guerra non ha più ragione di essere. Attraverso la mia mediazione vi propongo i miei uffici. Figli miei, le vostre previere sono già delle proposte per la pace, semi di speranza in mezzo a conflitti ambigui. Niente e nessuno potrà disturbare la pace che il mio cuore immacolato concederà. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.